Mormanno 5 anni dopo, è il momento della ricostruzione dopo il sisma a magnitudo 5 con epicentro nella cittadina ai piedi del Pollino che nel 2012 fece danni importanti a infrastrutture, abitazioni civili e attività produttive. I fondi finalmente sono stati sbloccati. Abbiamo fatto una ricognizione, abbiamo sbloccato le risorse residue che adesso sono state rimesse a disposizione del comune di Mormanno e di tutti i comuni del comprensorio che sono stati colpiti perché si possano finalmente utilizzare portando a compimento le opere sia delle attività private che le attività pubbliche che sono rimaste incomplete. I fondi sono circa 11 milioni e mezzo che sono già nei capitoli di bilancio, quindi entro 7 giorni, massimo 10 giorni possono essere spesi. Un punto di partenza, dopo la messa in sicurezza, gli iniziali aiuti e le prime sistemazioni, adesso è arrivato il momento della rinascita. Finalmente dalla Regione Calabria, dal Ministero della Protezione Civile, dal Dipartimento, arrivano le risorse per la ricostruzione, grande possibilità di dare a oltre 70 famiglie il sogno e il desiderio di poter tornare nelle loro abitazioni quando prima, attraverso peraltro un sistema innovativo. Per la prima volta in Italia gli interventi li realizza direttamente il comune, i comuni saranno soggetti attuatori degli interventi anche per la messa in sicurezza e la ricostruzione del patrimonio privato. Vanno create aree di evacuazione, ci sono edifici che rischiavano di collassare l'uno sull'altro, e quindi da questo punto di vista occorre anche un'operazione di rigenerazione urbanistica significativa.